benvenuti o bentornati nel canale oggi un video spero carino che possa farvi passare qualche minuto di spensieratezza con il sottoscritto io ho acquistato e provato piccoli prodotti tech davvero simpatici che costano su amazon non più di 14 euro e sui quali potete prendere spunto per acquistarli oppure per regalarli a degli amici proprio in prossimità del natale come al solito se volete potete darmi un bel like per me è davvero importante soprattutto in questi video che non trattano droni dunque aiutatemi con un bel like mi raccomando è semplice basta un semplice ricco e va sotto se non siete iscritti qua siete benvenuti inizio questo mio video con la fruitman penna 6 e 1 eccola qua una penna stilo davvero molto particolare un regalo che ritengo davvero bellissimo va sicuro bellissimo io me la sono presa eccola qua con soli 9 euro e 90 se volete potete fare un regalo davvero carinissimo per una penna che ha moltissime funzionalità ovviamente possiamo usarla come la classica penna per scrivere a quattro ricariche d'inchiostro compresa quella qua dentro eccola qui possiamo usarla con la sua punta capacitiva ovviamente per dispositivi ovviamente touch e questa è la parte ovviamente tech possiamo poi usarla anche come cacciavite a stella si esatto o a taglio basta svitare questa parte e vedete che è possibile usarla anche per questo possiamo usarla anche come livella ma anche come righello in centimetri e pollici in diverse misure la penna è davvero ben realizzata fa un bel effetto tenerla in mano insomma sono davvero felice di essermela presa ovviamente che dirvi vi metto il link in descrizione se volete andarvela a vedere torniamola che passiamo al secondo oggetto che vi faccio vedere che è semplicemente un salvadonaio digitale molto molto carino conta soldi per risparmi con tanti con display lcd e una grande capacità 1.8 litri più o meno anche se dietro ci si mettono soldi in pratica quando vado a infilare qualsiasi moneta in euro qua nella fessura sul display lcd compare per un secondo il valore della monetina inserita che il sistema va a riconoscere e subito dopo compare l'ammontare tutto quello che ho se vado a metterci 20 centesimi vedete ecco che me li conosce se vado a metterne 50 ecco che me li conosce è possibile aggiungere o sottrarre manualmente quei tasti più o meno le monete al barattolo e le potremo lo potremo usare ovviamente se vogliamo che ne so inserire esempio un 5 10 euro in carta non in banconota e certo meglio non togliere se no di risparmi io l'ho pagato 12 euro e 99 e mi piace un casino e ora via risparmio ovviamente per aiutarmi a pagare il mio prossimo drone un oggetto davvero interessante link anche di lui in descrizione e ora quella che ritengo la videocamera più assurda in assoluto a 11 euro e 99 eccola qui la sq 11 la mini videocamera full hd a 1080p 30 fps una piccola telecamera chiamiamola spia che registra su una scheda esterna a 32 gb che non è inclusa fino a 100 minuti di video continui con immagini di discreta qualità un design compatto portatile la mettiamo un po dove vogliamo in un taschino in tasca la appoggiamo e zac registra interfaccia dvdc usb 2.0 supporta scheda 32 giga cavo tv out monitor io ne ho comprate nel tempo o almeno tre e le ho spesso piazzate anche nei miei droni l'ultima prova l'ho fatto sul mio shine x5 e in quel video spieghiamo anche come si configura come si cambia la definizione come si passa da foto a video di questa piccola s11 ma poi non l'ho mai pubblicato quel video anzi fatemi sapere se volete vedere questo video molto strano su questo test che ho fatto con lei con la con le shine x5 che non ho mai pubblicato scrivetelo magari sotto in descrizione e lo pubblico link anche della piccola s11 in descrizione ovviamente sempre su amazon bene un altro oggetto davvero utilissimo è il mio cavo portaclave chiavi lightning del tipo c micro usb 3 in 1 portachiavi magnetico eccolo qua portatile per carica rapida per iphone ovviamente anche per tutti gli smartphone android è molto utile attaccarlo al nostro portachiavi è una soluzione perfetta per quando abbiamo bisogno esempio per ricaricare con un power bank il nostro smartphone tipo questo vedete e non vogliamo portarci dietro cavi o li abbiamo dimenticati noi andiamo a inserire questo andiamo a inserire i vari tipi di attacchi nella nostra nel nostro smartphone per ricaricarlo a diverse interfacce micro micro usb di tipo c e ovviamente compatibili con tutti gli iphone e con tutti i dispositivi android l'ultima generazione con cuffie bluetooth con power bank fotocamere macbook pro e altri dispositivi usb un oggettino davvero davvero utilissimo ad un costo davvero mini che con un po più di 10 euro lo si porta a casa ovviamente anche per lui vi metto il link ovviamente in descrizione chiudo con il trasmettitore fm bluetooth lessent un viva voce car kit lettore mp3 lettore batterie per auto anche con due porte usb con questo oggetto attaccato alla presa accendi sigari della vostra vettura vi crea un viva voce in auto veramente in due minuti d'orologio e con lui possiamo rispondere e comporre rifiutare o terminare una chiamata passa senza interruzioni tra le chiamate in entrata e la musica che stiamo ascoltando direttamente anche dalla nostra penna usb a una rilevazione della tensione anche della batteria della nostra auto perché è dotato di un voltometro che può visualizzare lo stato della batteria appunto è molto facile da configurare basta inserire questo trasmettitore fm nella presa accendi sigari come detto accoppiare il telefono al dispositivo tramite il bluetooth denominato t25 e sintonizzare la radio fm dell'auto su una stazione vuota e regolare questo trasmettitore fm sulla stessa stazione e da lì fate tutto ascoltate musica sulla vostra penna usb come vi ho appena detto rispondete alle chiamate sul vostro smartphone usando gli erto parlanti direttamente della vostra vettura e come detto vedete pure in che stato è la batteria della vostra auto il tutto a poco più di 14 euro anche di lui ovviamente è classico link in descrizione tutti piccoli oggetti che vi arrivano velocissimamente e acquistate su amazon ho diversi altri gadget interessanti trovati su amazon e se volete potete iscrivervi al mio canale telegram dove condivido oggetti a sconto che piacciono ovviamente a me e che trovo in rete come gadget di questo genere e sempre su telegram condivido file codici sconto codici gratuiti per app e quant'altro ovviamente tutti i link di telegram e dei miei social sotto in descrizione vi saluto e spero che abbiate apprezzato questo mio video forse anche abbastanza carino ciao dalla toscana e pronti a farvi i vostri acquisti gadget a qualche amico per natale ciao da big red ciao 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 ciao